C'è un giocatore nella vista ariana a Cadia che sta sorprendendo veramente tutti, un elemento che grazie alle sue folate offensive sta facendo sognare i tifosi ufitani, Camara Fodè. Classe 2001, il numero 6 del club del Tricolle, anche contro il Grotta, nel derby più sentito dell'anno, è andato al bersaglio. 10, le reti messe a segno fino ad oggi, dal giovane calciatore parigino. Il rigoroso ordine ha gonfiato alla rete contro i Lioni, l'Alfaterna, la Scafatese, l'Angri, l'Eclanese, il Sant'Agnello e il Cervinara. I tifosi della vista tornano a sognare i fasti di un tempo anche grazie alle sue giocate. Il calciatore è attenzionato da diversi club professionistici, tra cui anche due di Serie A, Torino e Atalanta, che hanno chiesto informazioni, così come hanno fatto lo stesso, Perugia e Benevento. Un poker di compagini interessate ad un talento cristallino che sta facendo sognare l'Ariano Calcistica, una piazza che spera, nel ritorno in D, di raggiungere nuovamente quella categoria calcata tanti anni fa. Sei punti dalla capolista Santa Maria e nel prossimo weekend sfida al Vichequenze, una gara che potrebbe permettere a Capodilupe e compagni di avvicinarsi ancora di più alla vetta.